Eccoci qui trovati con il terzo episodio di Romantola World 2, la campagna di Roma, diretto da Hares, prodotto da Hares, giocato da Hares, tutto quanto fatto da Hares. Allora abbiamo spostato questa unità di generale in questa provincia perché in quella provincia è possibile reclutare unità utili come gli astati, invece a Patavium non era possibile fare questa operazione. Allora, questo episodio è dedicato alla conquista della Galecisa Alpina. Ora proviamo a fare dei tagli netti per evitare che il video duri 40 minuti, anzi 45, che è la durata del row, cioè del video row, cioè del video madre, da dove comincia, lo sconfinamento in subri. Allora, che facciamo adesso? Prepariamo una bella legione, quella italica, che sarà la legione primaria che affronterà l'esercito a nord. Intanto con un leggero controllo di tutte quante le altre città e province ci assicuriamo la prosperità e l'ordine pubblico nel nostro impero, il quale non è ancora perfettamente una macchina funzionante che si può autogestire. Quindi passano i turni, passano i giorni, passano le ore, passano le stagioni, i mesi e gli anni, ognuno fa le sue mosse e noi ci prepariamo, si prepariamo per banchettà a nord con la volentina medievana, medievana, milanese. Allora, qui metto mod assalto, che mi consente tanti bonus, ossia quello di razziare tutto quanto il territorio nemico, diminuendo, infatti qui ci è stato anche scritto cosa fa, quindi se mettere stop leggete correttamente. Prendo dei mercenari, probabilmente non adesso ma li prenderò dopo perché adesso sono una spesa inutile e basta. Insomma, mettere la misura d'assalto consente di rubare le risorse al nemico e far sì che il mantenimento delle truppe di quell'esercito che assalta sia inferiore rispetto a prima perché ovviamente rubano i soldi agli altri, quindi tu non devi pagare l'esercito perché dici, cazzo, già rubato, complimenti, io ti doppi un euro. Ok, inticopedico, infamia, guarda sti infame, ammazia tubercoloide, tubercolosa, sì, cacciava fuori l'azienda perché fa troppi bocchini, fa troppe cose, quindi io la punirei, sì sì, io la punirei proprio, eccola, putten. Oh, notiamo che la mia politica fa schifo, io sono i blu, i rossi sono i giuli e sono abbastanza in... ecco, uccidiamolo, ma uccidiamolo, ma tanto abbiamo solito a buttare perché in matrimonio non penso sia no... O forse sì, proviamo, ecco, ho fatto schifo. Lalle. Spargi la voce. Spargere la voce serve soltanto a dire cazzate e cattiveria su di lui, quindi servirebbe per affossarlo, ma... Qui facciamo questo, spegniamo tutti i nostri soldini per implementare i nostri... questo chi è? Ah, il misogeno, bene. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, andiamo avanti con l'esercito, vicino a Miglioranum. Notiamo che comunque loro c'hanno... Sì, è la capitale, quindi vuol dire che c'hanno un sacco di truppe come guarnigione. Poi c'hanno un esercitino loro all'interno. Però io... Siccome assaltare le mura è un po'... è un po' brutto perché... Ci sta il locuramento. Io tenderei a fare un colpo secco. Cioè un assalto secco alla città. Quindi mo... Andiamo un po'. Andiamo avanti. Ecco, allora, qui abbiamo preso... Chiamo una forza? No, non chiamo niente. Lì siamo sempre più a vicino di verso Milano. Invece Genova è controllata da una spia che controlla appunto l'esercito se si muove, se resta lì affinché io possa avere maggior sicurezza. Faccio usare la mia legione fulminata da Zeus, che abbiamo creato in precedenza nell'altra puntata perché ci siamo cacchi di sotto da una nave straniera. Qui, ovviamente, fanno delle modifiche di investimenti al nord. Al sud, scusate. Mi sono sbagliato. Qui facciamo ultimi soldini di investimenti, perché c'hanno il cappelluccio con un lupo a chiotto, quindi riuscivano da un po' Roma. Quindi facciamo loro. E passiamo il turno. Passiamo il turno, andiamo avanti. Andiamo avanti finché, ecco appunto, una missione ci consiglia, ci sollecita a costruirci questo dignitario. Questa persona è colui che si darà dignitare, si dignitis, si dignitura di qualche cosa che noi non siamo ancora in grado di percepire, di intuire. Però questo dignitario si digniterà del dignitato. Lo mettiamo lì e il prossimo turno sarà operabile. Operante. Operato. Operapus. Ma che cazzo sto a di oggi, non se sa? Vabbè, comunque, il prossimo turno si potrà utilizzare. E il dignitario ha l'abilità speciale di combattere contro le azioni negative delle spie o degli assassini. Credo, eh. Poi non vorrei di cazzate. Intanto dichiariamo guerra e attacchiamo questi mesogeni balordi dopo aver creato un'unità di, ecco, di proprio crocefissi come i gesuiti a Baghdad. Perfetto. Abbiamo conquistato Milano. Abbiamo preso in contotempo sto popolo. La città costruendo questi mercenari sul momento, istantanei. Ecco, noi mettiamo i conquistatori, che sono fortissimi. Questo esercito è proprio forte e rispecchia proprio il suo nome. La prima legione italica. Cioè, la legione che ha un messaggio proprio intrinseco nella sua essenza, che è quello di portare l'unità d'Italia romana. Ovviamente perché è la parte più... è l'epice della nostra storia. E poi anche il contesto in cui sto a giocare. Mica stiamo a parlare del 1800 e passa, quindi easy. Allora, non possiamo vedere. Abbiamo razziato. Abbiamo preso più di 3000 euro. Che noi spenderemo per migliorare questa città. Che si chiama? Milano. So c'è Milano. Ecco, mettiamo quello. Poi qui andava... sì. Qui ovviamente demoniamo perché non... Io... sì. Purtroppo non ho la tecnologia per sviluppare queste strutture. Però in futuro le primaverie ma noi smantelliamo perché non ci serve. Perché questa città ha bisogno di... Eh... Della nostra cultura e dell'ordine pubblico e del cibo. Tanto l'esercito non ce l'abbiamo. Quindi non abbiamo paura di... De niente. Qui, questa regione fulminata... Sì, sì, ci c'è un po' d'occhio. Tanto lì in mare lo difendiamo con... Con la flotta della Miraglio Nelson. Questi invece... Le mandarei a nord. Lì sul confine sempre. E poi reclutiamo. Perché fino al confine si può reclutare. Mettiamo un raid, uno statino. Tranquilli, tranquilli. Vediamo se si può fare altre cose. Se no dopo... Vabbè, pompiamo tutto quanto sull'esercito. Ma fanno un altro duvete di tanto per sparare in faccia la gente i giavellotti. De Zeus. Ok, andiamo avanti. Ecco Ci hanno attaccato Sti balordi Noi scappiamo perché sono troppo forti Rispetto a noi E questo è un brutto segnale ragazzi Perché vuol dire che ci rompono le inus Ancora sti problemi Ma che è decimo assiocrispo? Chi è? Gesta oscura Ha venuto il suo pupillo per Mortacci tua Io te crocifigo zi Basta Ho montato un pasto Arfaina Lancia direttamente Contro il muro Lancia proprio la carbonela Tutto lancia Ma gli è di Arfaina Ecco abbiamo ucciso quello senza motivo Cioè diciamo che Ci ho provato io pensavo che uccidendo questo Facendo parte della famiglia Giulia Poi si abbassasse l'influenza di quella famiglia Invece manco per il cazzo Cioè ho perso un generale forte Per niente E vabbè Quindi mo Sbagliando si imparano Quindi no Chiamiamo sti tre aree Che comunque Sono dei lancieri che a me mancavano Nel terzo Tanto alla fine una cavalleria sola Non fa niente Da sola Ma gli è di avere pure i lancieri Che sono comunque tanti Stati per mantenere Dice no Vedi Infatti qua sono rimasti sempre tutti i rossi belli Grinziosi Invece Non hanno incrementato niente Quindi Prima regola del suo gioco Che per la politica Non bisogna mai affossagliati Ma bisogna essere Proprio bisogna Incrementare invece il potere Dei nostri Invece che cercare di affossagliati Questa è anche una lezione di vita Portacci vostri Allora Quindi Milano L'abbiamo presa Noi ci concentriamo Tutto quanto Sull'assedio di Genova Che deve crollare Che c'hanno 4 eserciti La guarnigione La flotta Più 2 eserciti di terreni Ecco Facciamo così Automatica Questa però è molto rischiosa Perché comunque Queste statistiche Che loro fanno Sono sempre bilanciate In base al tuo generale Cioè al tuo generale Che in base alla sua Abilità di Fare calcoli Può prevenire o no Una vittoria Una sconfitta Vittoria di misura Infatti Perché questo qui Non è molto forte È nuovo Abbiamo appena preso Quello dei 3 aree Quindi 3 aree Quindi Sicuramente Facciamo meglio danno Facciamo il Il terreno consacrato Intanto Oh Oh La paura di Ares Attenzione Guarda chi ci sta Ai 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 Qualcuno ha paura di me Io ho paura di loro Lo scopriamo ben presto Io facciamo un comandante Qui la Cisalpina È quasi tutta nostra Ah no È tutta nostra Che cazzo sto dicendo È tutta nostra Avvocato Aveva conquistato La Cisalpina Però ora toccherà Vedere come si mantiene Perché qui Abbiamo un po' di problemi Abbiamo un po' di problemi Legati alla cultura Al fatto che comunque È pieno di nemici Io ho un esercito Che casca a pezzi Ormai E Sì loro sono rossi Perché non c'hanno più Una dimora fissa Quindi sono tipo Diventati zingri Essinti Ai 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 I ribelli I ribelli Liguri sono formati Attenzione Intanto Gli insubi Si spostano Verso il po' Una rivolta Di Genova Attenzione Ah Viene un po' di soldini Ah 60 unità Perfetto Ah No Guarda come si Evolve questa situazione Delle gesta oscure Tanto il nostro esercito Cresce 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 Però non cresce La nostra influenza politica E questo è un gran problema Ragazzi Perché tutti quei bonus Che vedete Gli iscritti in verde Sono importantissimi E tocca Alzarli Uccidi Ma perché devo uccidere il mio Uccidiamo gli altri Non cambiamo a uccidere Perché sono Una spraga di soldi Che stanchezza Dai Andiamo avanti Su Mi stai stufando Ares Su Vai avanti Vai avanti Allora Andiamo avanti Genova Ci sappiamo Qui Costruiamo Un bel porto Quindi 60 al commercio E 120 Cosa marittimo Incrementiamo quello Verde Per Per i bonus Uh Qui possiamo costruire Possiamo incrementare Velletri E che ci facciamo Facciamo Mi so Il piccone Il piccone Penso sia quello più Conveniente Mi raccomando Ogni volta che espandete Una città Costruite subito Perché se no Vi si creano I Ehm Vi si crea Monte spaccato Ortuferlo O te si crea La Maiana Te si crea San Basilio E a me queste cose Non mi piacciono Perché dopo Te danno i malus Te danno la torbella monaca Te danno 6 ordine pubblico O squallore E non si fa Quindi attacchiamo Sta flotta E Guarda che mare E' proprio un mare Bellissimo Incredibile L'ho fatto veramente Bene Complimenti Allora Vai Sempre con le mie Truppe d'assedio Marittime Molto pesanti Ma potenti Con Con Il generale Che è medio Medio pesante E due Lanciatori di scogliattoli Molto leggeri Che metterò Qui Se la battaglia E cominciamo a bombardarli Come stronzi Velocizziamo un po' La velocità del gioco Ecco così Bella speedata Notare come Fai il click Ogni volta Le cazzo di cose Dov'è sempre 300 volte Dai Tutto quanto Spanato Così la grafica Cominciamo a bombardarli Mentre con Le tre navette Cerchiamo sempre Di fare La nostra Bellissima Esca Una nave va giù Già si è fermata Perfetto Abbiamo affondato una nave Affondato una E focussiamo l'altra Questo è il nostro motto Mentre quell'altra Scappa da là Tu pure Scappi da qua Tu vai lì A sinistra Non so più Dove cazzo Adesso è la sinistra Tu focussì quello Tu focussì chi Quello focussertò Quello dammi il gatto Quello dammi il sorcio Quello scappa da qua Quello affondato E tutto così Marasma De roba che Non se fa Non se fa Non se fa Ma comunque Allora qui Mi sono aperto un po' Con le barchette Sto scappando Quello lì è Marco Polo Che sta scappando così tanto Che dopo andrà a finire Tipo in Cina E Sì qui Sotto attacco Perché mi sono allontanato Portandomi via due uomini Come a calcio E loro Mottirano in porta Vedi Fanno i tiri in porta Liberi E cercano Sto sempre di fare gol Ecco Andiamo avanti Qua vinciamo Palesemente Sbraiando Un intero esercito Con quattro barchette D'artilleria circa E Qualche altra cosuccia Poi Incrementiamo L'abilità E andiamo verso Nord Eccoci qua Allora A Nord Abbiamo questi qui Che ci stanno a fastidio Li focussiamo Con il nostro esercito Ormai Più o meno Rinvigorito Ok Un'altra volta Automatico Per fare presto Andiamo Aggressione E loro E loro vengono Sbaragliati Come Minipoli In calore Uccidiamo i prigionieri Fazione distrutta Perfetto Ora torniamo giù Nella cittadina nostra Per difenderla E per Per incrementare Il recupero L'integro Delle unità Del nostro esercitino Abbiamo fatto Seguire intanto La legione Fulminata Per coprire Milano Da un Impatatico Assedio È un'invasione Dal nord Mentre Patabium Resta un po' Scoperta Ma non troppo E la Cisalpina È quasi Più o meno Gestita Ormai È sotto controllo Nostro Cioè È sicuro Quasi Mangiamola Alla spia Lì Per vedere Un po' Che accade Vicino Nel Massimila No A Massalia Che cazzo Sto dicendo E E niente Quindi Con un leggero Sguardo Verso il sud Vediamo Le rotte commerciali Che abbiamo Che stiamo Facendo Ne abbiamo una Soltanto con Con la Con Siracusa Con la Siracusa Che ci dà Quasi 300 euro Io non parlo di euro Ma sono fiorini Sono testersi È quello che A me non mi interessa Per semplificare Dico che sono 300 euro Poi Genova Ah Qui l'esercito Ribelle Come funzionano Questi ribelli Che ogni turno Ah già Tocca a mentare La cosa Che ogni turno La La felicità Aumenta Di 20 E loro Si aumentano Che vuol dire Che La provincia Che insorge La popolazione Che insorge Va a infoltire L'esercito Ribelle E si abbassa Quindi Proprio Le persone fisiche Che sono scontente Perché sono le stesse Che poi vanno a combattere Quindi La città La città diventa Più contenta Perché si svuota Della gente scontenta Quindi è una cosa Un po' carina E coccolosa Stare Ho atti oscuri Quindi bisogna fare Un'altra cosa Non croceviggerlo Ma secondo me Bisogna Cambiare la sua Sestenza La sua Sentenza Sono molto Dislessico Oggi Porca puttana Allora Croceviggerlo Non si sa cosa Avverrà Sto cerchendo Di usare L'energia Per scoparsi Ok Quindi cambia La sentenza Verrai Gettato Sopra Dalla rupe Di Arpea Bastardo Perché hai rotto Le pale Sono 300 Turni Che ci stai Cigolando Con le tue cose Basta Ho qui Facciamo L'altare Di Giove Poi passiamo Il turno Ai 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 Mai che ci attacca Bastardi Ma che sta a dio Madonna Questa è una Camorosa Proprio Automatica Ma si Facciamo Automatica Di aggressione Pam 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 Metà di misura Ammazza Questa Abbiamo sterminato 5 unità Anche di più E abbiamo difeso Genova Col Il pugnale Con i denti Vabbè Vaffanculo Aspetta Abbiamo Sì Come Genova Sì Abbiamo sempre Questo esercito Mezzo distrutto Mentre sale Anche l'esercito Dei Beledi Che si incrementa Incrementa Perché Oh La palla di Ares Va sterminata Tutti sti uomini Di leva Balordi Che ci hanno Attaccato Alle spalle Eh I compagni di Eracle Sì I compagnucci Comunisti Vai Prendiamo i fulminati E Andiamo a Attaccare questi Balordi Rimasugli Automatica Tanto è Stravinta Perché da tutti A pezzi Aggressione Combattono Uccidiamo E Muoiono Perfetto Sono morti Entrambe Sono morti Perché erano Stavano già scappando Quindi se scappano una volta Fanno un percorso Tu dopo li raggiungi Quando li uccidi Li stermini sempre È una cosa abbastanza Automatica A meno che non rimangono In tanti Però super giù È così Pronto non so Meglioranum Per difenderla Aumento l'abilità Ovviamente Tutto quanto Ma Genova deve Aumentare Il suo esercito Bisogna Reintegrarlo Tanto dopo Pensiamo molto bene Di andare a ammazzare Massalia Perché si sono Con la sua provincia Massaliese Massalica Ok L'Italia è abbastanza Messa bene Con ottimi introidi Ottimo bonus L'ordine pubblico E cibo Quindi l'Italia è perfetta L'Italia centrale E giusto Sì Sta Cisarpina Che ha un problema Tocca un po' Destabilizzarla Ma non lo faremo Pure il sud Fa schifo Ormai Meno 8 Tocca fa Ho un esercito Più forte Così loro Si sentono più protetti E più romani Ma Perché con Siracusa Ah ma sono entrambe Siciliane Cioè entrambe di Siracusa Che figata Mazzia Sti cartaggini Non valgono niente Oh incredibile Regoliamo Un po' di personcine Perfetto Ci facciamo Leviamo quelli che sono Dei pipponi Le leve fanno Proprio schifo Lo ripeterò Ogni puntata Fanno schifo Le leve Fanno schifo Perfetto Cerca completata Intrico politico Perfetto Oh la nostra legione cresce Intanto Oh in questo caso Sì ecco Come dicevo prima Meglio assicurare Le nostre promozioni Vedi Più 12G Piuttosto che Uccidere gli altri Vedi 30% Loro stanno 33 Quindi abbiamo già superati Però noi facciamo Quell'altro E li surcassiamo Vediamo un po' Politica Ah perfetto 38 E 31 Perfetto Abbiamo la maggioranza Con tutti quei bellissimi Bonus Allora Tanto vedi L'umore di Genova Sale Perché quelli che Sono scontanti Se ne vanno a fare la rivolta Che poi moriranno tutti quanti Trucitati come Coniglietti in calore Avviciniamo anche Quest'altro esercito Per sicurezza Finchè non ci attacchino Magari Genova Questi ribelli Passiamo i turni Passano le stagioni Tanto lì ci sta Un trionfo Non capisco perché Trionfano a Belletri Vabbè E Massilia fa qualcosa Qui cosa fa Non si sa Vabbè Continua a scorrere Veloce Gli elvezi Dicono guerra A noi perché Non si sa perché Così random Vabbè Grazie 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 Molte Grazie Molte Passaggio militare Vabbè Non ci interessa Non ci interessa Oh Loro Sono belli grossi Noi pure Siamo belli grossi Li attacchiamo E li sconfiggiamo Palesemente Senza problemi Proprio Ecco Ho proprio dritto In bocca Un bel cortellazzo In bocca E Sì esatto Li sterminiamo tutti Perfetto Abbiamo una legione Fortissima Che implementeremo Le statistiche Portiamo questo esercito Su a Milano Con lo spostamento Veloce Per difenderlo Per Ok Perfetto E cominciamo Finalmente Finiamo Gli ultimi Edifici Di costruzione Finendo anche I soldi E aspettiamo Di nuovo Che il nostro esercito Si reintegri Dopo queste Tutte queste Battaglie Sanguinolenti Sanguinoidi Sanguinose Formose Quindi mettiamo Anche il guerriero A livello 2 Che da bonus Morale E attacco Poi mettiamo Propriabilità No? Mettiamo L'armatura Mi sa Che è quello Più interessante O sennò Questo qui È derivato dai Sì Questo qui È per saccheggiare Sto creando Una legione Proprio in grado Di rompere i guri Pure a tutti Pure a cartaggine A tutti quanti Questa qua Sarà fortissima Tutti i bonus Legati alla percentuale D'anni Di ogni tipo Eccetera 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 Sarà Nobile fine Il video Lo usciamo Però Sì Eccetera Del mio generale Perché ho fatto Una cazzata E mo' Mi toccherà Di mettercene Un altro Mettiamoci Però stavolta Facciamo I triremi Con La torre Facciamo Una torretta E mettiamoci Quello che costa Di meno Tipo zero Ecco Della famiglia Ionia Un errore Che faccio io È non guardare mai Quelle stelline Perché contengono Le informazioni Del generale Quante mogli c'ha Quanto c'hanno a lungo Cosa fanno alla vita No non è vero C'hanno Delle informazioni Molto sintetiche Della sua Del suo potenziale Di quello che è Della sua abilità Insomma Siamo alla promozione E vediamo già Che abbiamo Ecco 40% Notevole No? Notevolissimo Allora Vediamo il sud Cosa combina Niente di che Tanto lì cresce Il nostro esercito A sud Mentre il nord Ormai diciamo Che è fatta Abbiamo fatto Tutte le nostre guerre Contro Massiglia Contro Gli insubri Contro i ribelli E passiamo in turno Perché tanto ormai Abbiamo fatto E diciamo Che più o meno Questa è come Ho conquistato La Cisarpina Come sto Radunando tutta L'Italia Manca la Sicilia E la Sardegna Cioè le due isole Anzi le tre isole Corsica Sardegna E Sicilia E penso che sarà Proprio L'argomento Di cui tratterò Nel prossimo Capitolo Quindi facciamo O lo sbarco Nella Corsica O da Genova O da Roma Vediamo bene Come gestircela E poi spostiamo Questo esercito Giù al sud Verso la Sicilia Intanto incrementiamolo Perfetto E E niente Quindi volevo ringraziare Per la vostra attenzione In questo video Che è stato abbastanza tranquillo Senza troppe Cose Editate Tipo Riprese Strane Cose così Molto semplici Lineare Però non ho fatto manco Una cosa troppo comica E insomma Così ecco Sto per Illustrarvi In 26 minuti Circa Quello che Che sto combinando In Gallia Comunque si Ci sta una base Per Così Vi faccio vedere Anche come Dopo che si conquista Si deve anche Gestire Il proprio territorio No Sennò dopo Ti insorgono Vengono le malattie Viene Vengono i laziali E dopo No scherzo Vengono i juventini Quelli sono proprio I peggio di tutti Infatti Per evitare Che si formano i juventini Qui nel Piemonte Tra il generale Tra l'altro Manca il Piemonte Ma vabbè Diciamo che Aganini E qui Nella gula Della Juventus Per evitare Questa cosa Costruite Quegli edifici Magari Danno dei bonus Anti Juve Sono sempre Importanti Da tener conto Ecco E niente No Lasciamo partire La sigla Di Handing Della 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 Grazie per la visione!